Durante la serata di ieri Miss Vizzera c'è stato un party veramente assurdo, dato che è stato rilasciato il nuovo disco di quei pochegni, ovvero Mr. Feeny. Neanche a dirlo sono state presenti un sacco di celebrities a questa festa, fra cui ovviamente l'immancabile Spera e Basta, che è anche un featuring con quello all'interno dell'album. Però qualcosa è andato storto, infatti Sfera quando stava uscendo dalla locale dopo i festeggiamenti, un fan sembrerebbe averlo insultato, e Sfera con tantissima classe ha esordito con un sfruttiamo il cazzo, facendogli il dito medio e mandandogli un bacino subito dopo. Non aggiungo altro quindi ma vi lascio le stories dell'evento a questo filmato inedito, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, noi ci vediamo un prossimo video in linea studio. Parcio. Una bottiglia! Una bottiglia! Grazie. E' schifo, è schifo, lo sai? E' schifo, è schifo, è schifo, è schifo.